E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video pazzesco e incredibile, sono sempre Sampleboy in questo nuovo video pazzesco e incredibile Allora, vi dico subito, se volete c'è il gruppo Discord, compravendita, guide, tramite Patreon, mi raccomando, tutto il link in bio Allora, ragazzi, oggi vi porterò dei fit di compravendita molto interessanti, quindi mi raccomando rimanete fino alla fine Soprattutto ragazzi, e soprattutto iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video Perché mi darete una grossa mano facendo così Allora, il primo filtro che vi do oggi è un filtro che va usato quando le attenzioni non sono su USB-C, ad esempio incontri principali Ecco, quando escono gli incontri principali, questo secondo me non è da fare, questo metodo, questo filtro di compravendita, di sniping Allora, la qualità da mettere argento, potete fare sia comune, ma preferisco raro, quindi potete fare argento raro oppure anche lasciare semplicemente argento Mettete difensori, no, mettete difensori centrali Campionato, mettete serie A La nazionalità potete anche lasciarla uguale Però preferisco andare su Italia così un po' più specifico Club ovviamente nessuno E più o meno il prezzo, oggi siamo martedì Dovrebbe essere su 600, anche meno di 600 A volte ci arriva anche a 550, a volte ancora meno Ad esempio questo oggi è un buon giorno per farlo, ad esempio Goldaniga costa 500 Ora, io non faccio questi metodi perché ho un budget molto elevato Questi filtri che vedrò oggi sono per budget, diciamo, sui 50K, 100K, anche 200, 300 Ovviamente quando avete dei budget grossi non ha senso acquistare dei giocatori A fare compravendita sui giocatori che valgono sia no 600 e lo rivendete a 1.200 Capito? Non ha molto senso Comunque, voi andrete a prendere questi giocatori qua sui 500 massimo O 550 che è 600 Dipende, alcune volte è che 650 si possono prendere E gli andrete a vendere questi giocatori qua sui 1.200 Quando escono le SBC Quindi ad esempio quando c'è l'SBC della Champions Dei incontri principali della Champions Quando c'è l'SBC degli incontri principali O comunque quando escono le SBC dove servono appunto giocatori agenti Ma anche soprattutto giocatori della Serie A magari Questo è molto interessante come filtro di compravendita Un altro filtro di compravendita molto interessante Bisogna mettere oro ragazzi Oro, difensore centrale, lasciamo Rarità comune però Rarità comune Qui dobbiamo mettere Francia Ok, Francia E mettere come campionato la Liga Spagnola Il prezzo più o meno è sempre lo stesso Ovvero 600 Ma si può fare anche di più Adesso dipende dal periodo 650 Ecco, 650 è il massimo Proprio dire così Sì, 650 è il massimo Dove sniperare Preferisco anche Sarebbe bello anche 550 Con questo filtro dovete prendere tre giocatori Ovvero un TT Non Jordi Alba ragazzi Un TT Le Normand E questo qua La Jun Le Jun Questi sono i tre giocatori che dovete sniperare E tutti questi tre giocatori Si possono rivendere anche a 1200 Tranquillamente Sopra 1200 Poi dipende anche dal momento del mercato Un TT si fa un po' più fatica Perché va sui 800 Però sia le Normand che le Eugène Quando escono SBC importanti Dove servono magari i francesi O comunque si usa la Liga Spagnola Sono molto importanti Perché fanno intesa Un po' con tutti E con altri anche campionati E poi comunque si hanno Un overall abbastanza altino Nella media Un altro Arriviamo a un altro Profitto compravendita Sempre lasciamo sempre oro Questa volta raro Sempre difensore centrale Perché diciamo I difensori ragazzi Sono Il miglior Il miglior giocatore Per Per l'SBC Spagna Lasciamo Spagna E sempre Liga Santander Il prezzo Più o meno Deve essere sempre No scusate Un po' più elevato 700 750 Ovviamente Ho anche 800 Adesso magari È un momento Dove si fa un po' fatica A trovarli Infatti Non è il momento giusto Per questa compravendita Direi Come potete vedere Si fa veramente fatica Adesso si trovano Tutti sui 1200 Ecco ad esempio Questo filtro Adesso non conviene Però c'è un periodo Ad esempio Questo filtro Può convenire Quando escono I premi Quindi ad esempio La domenica Dove la gente spacchetta Per la WL Il giovedì Quando escono i premi Delle Rivals Anche il lunedì Quando escono Comunque Quando la gente Inizia a spacchettare Magari i premi Delle Squad Battles Insomma Quando la gente Spacchetta Quando la gente Spacchetta Questo diventa Molto conveniente Adesso siamo Martedì In un periodo Dove In un momento Dove Quasi nessuno Spacchetta Perché non Ha senso Spacchettare adesso Peraltro Non c'è neanche Una promo Per cui Non è il momento giusto Allora Andiamo anche Un altro Filtro Compravendita Sempre per voi Magari potrei fare Un video Di filtri Sniping A A settimana Magari Scrivetemelo sotto Nei commenti Se lo volete O comunque lasciate Mi piace Difensori Lasciamo oro Comune Difensori Però Non Non DC Ma difensori Premier League Però stavolta Quindi oro Comune Difensori Spagna Premier League Mi raccomando Allora In questo caso Dovremmo andare A trovare Giocatori Del calibro Di Marcos Alonso Firpo Insomma Tutti i difensori Della Premier League Spagnoli Ma comuni Quindi Più o meno Il prezzo Nel momento migliore Del mercato Si dovrebbe Riuscire a prendere Anche 450 Però Come ho ripetuto Prima Non è il momento Giusto Adesso si trovano Anche un po' Più alti 600 Direi che è già Un po' Esagerato Magari sui 550 Si può provare Ripeto Nei momenti Dove c'è più Scarte nel mercato Perché adesso Non è il momento Giusto Comunque Andrete a riprenderli Sui 550 E andrete a rivenderli Sempre sui 1200 E quindi Si parla di un Di un guadagno Medio Di Che ne so Facciamo un guadagno Medio Quindi 500 500 Magari 500 crediti A carta Quindi È molto interessante Come guadagno Se avete un budget Piccolino Quindi fate conto Che fate un centinaio Di queste carte Tra tutti questi filtri Di snampi Che avevo fatto 500 a carta Stiamo parlando Di un bel guadagnino Si parla di 50k Quasi No Ok Quindi molto interessante Ovviamente Non li venderete subito Dipende dal momento Però Andrete a fare un bel guadagno Perché ripeto Sono Sono dei guadagni Da Come dire Da Da carte Praticamente Senza rischio Ecco Ecco Non mi viene la parola Scusate Da carte Senza rischio Perché Stiamo parlando Di carte Che non hanno rischio Perché Voi andate a Sniperare una carta Che costa Che ne so 500k Al massimo Scende a 500 450 Ma non di meno Quindi Sono veramente Sono veramente Dei filtri di compramento Veramente Senza rischio Quindi state Molto Dico Molto Molto tranquilli Ultimo filtro Che vi posso dare In realtà È solo per Stasettimana In realtà Dovrebbe Dovrebbe uscire Dovrebbe uscire Appunto Gli incontri principali Del Di questa settimana Dovrebbe esserci Manchester City Liverpool Quindi Sicuramente Sarà molto interessante Voi andrete a fare Mettere qua 150 Ovviamente Andrete a cambiare Ogni volta Per fare Se lo fate Da web app Se no Da console Diverso Andate a prendere Qualsì giocatore Del Liverpool In questo caso Sono già Molto saliti Però come potete vedere Già 800 Questo era un bel acquisto Casius Anche 75 Non è granché Vedete come vanno via Velocemente Ecco Voi state State a controllare Il prezzo Come possiamo vedere In questo momento Che sto facendo il video È sui 1200 Però come potete vedere Ci sono delle botte Di carte Che escono anche 800 Comunque Il minimo Il minimo Compraora Adesso È 1200 Quindi se voi Già riuscite a prendere Le carte 800 Quando uscirà L'SBC Che 99% Ci sarà Manchester City Liverpool Queste carte qua Siccome si possono vendere Anche sui 1900 Minimo Minimo Sui 2000 Minimo Quindi Dipende anche Da cosa richiede Ecco Questo sarebbe stato Molto Molto buono L'ho preso Non male Non male Perché Come potete vedere Già a 1400 Il compraora Se voi Provate a venderlo Anche a Metterlo già così Lo metto già così Così In qualche modo In qualche modo Proprio poi Ragazzi lo vendete Soprattutto quando uscirà Vedete Con a te Ad esempio L'ho preso Perché è buono Perché è oro raro È francese Quindi straibridabile Ha un overall Comunque non troppo basso Ricordiamoci che Manchester City Liverpool Probabilmente Sarà la prima squadra E quando c'è la prima squadra Di solito richiede Un overall Di 80 81 Del team Quindi Richiede comunque Delle carte alte Quindi magari Evitate di prendere Un Cassius O anche un Oriki Piuttosto un Keita O un Konate O anche un Minimao Un Minimao Un Minimino Un Minimino Un Minamino Un Cassius Ad esempio No Ecco ad esempio Cassius Abitirei Seppur Se riuscite a prenderlo Sui 600 700 Andrete comunque A fare Del guadagno Allora ragazzi Vi invito A lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Questo è un video Incredibile Pazzesco Finito Mi raccomando Ci vediamo alla prossima Ciao